Avvocato Gasperini, è vero che il comandante della Polizia Municipale del Comune di Teramo, Franco Zaina, è indagato in un procedimento che riguarda sempre la vigilesca Capponi. E per cosa? Sì, è stato indagato su disposizione del GIP Canosa esattamente il 24 aprile del 2014 ed è indagato per l'articolo 55 in relazione all'articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008. Questo articolo prevede delle violazioni su un documento che si chiama documento di valutazione rischi che non è stato diciamo adeguatamente ricostruito e adeguatamente formalizzato. Come entra in gioco questo documento di valutazione rischi all'interno di questa indagine vasta che riguarda la Capponi? Il documento di valutazione rischi è un documento che nasce per tutelare i lavoratori nell'ambiente in cui il lavoratore lavora. Cosa accade? Che se succede qualche cosa all'interno dell'ambiente lavorativo questo qualcosa deve essere inserito in questo documento di valutazione perché proprio in virtù di questa legge bisogna applicare degli elementi o bisogna adoperarsi per eliminare quel problema. E quindi anche in questo documento si indica quali problemi c'erano e come si è arrivati a eliminarli. Che cosa rischia Zaina? È un reato contravvenzionale, è previsto appunto l'arresto, vi bisognerà poi vedere quali sono aggravanti o meno. Di questo argomento si tornerà a parlare, tornerete a parlare prossimamente in tribunale qui a Teramo? Ci sono delle udienze fissate, giusto? Adesso attendiamo che il pubblico ministero incaricato, il dottor Auriemma, chiuda le indagini e dopo di che dovrà chiudere le indagini e dovrebbe darci anche l'udienza per iniziare questo procedimento.